In sala stampa per presentare il derby interprovinciale Acragas-Gataldesi, il vice allenatore dell'Acragas a Samuele Costanzo. Domani che gara dobbiamo aspettarci? Ma intanto buongiorno a tutti, ci dobbiamo aspettare una gara importante perché incontriamo una squadra importante per questa categoria, abituata a fare questo campionato. Dall'altra parte noi sappiamo che è una partita difficile, l'abbiamo preparata bene anche se in pochi giorni e siamo pronti per affrontare questa gara perché dobbiamo dare delle risposte a noi stessi perché sappiamo di essere una squadra che può fare bene. Acragas-Gataldesi ti aspetti domani in campo? Ci aspettiamo una squadra combattiva che lotta su ogni pallone perché si affronta una squadra che lotterà su ogni pallone. Poi dobbiamo fare la nostra umile partita, una partita di pazienza e sfruttare le occasioni che ci saranno per portare a casa la massima posta in pallone. Sarà ancora un Acragas fortemente rimaneggiata, assenti per squalifica Leuca e Marrale, anche Mister Coppa sarà in tribuna e poi alcuni infortunati. Di questo non dobbiamo parlare perché è dall'inizio dell'anno che purtroppo viviamo questi periodi. Io penso che chi andrà in campo sa cosa deve fare, indossa una maglia importante e ha tutto il diritto e il dovere di fare una grande partita. Noi dal nostro canto abbiamo sempre messo il massimo impegno e lo faremo anche domani perché è giusto fare questo. Come si riparte dopo la sconfitta numericamente pesante contro il Locri? Ma si riparte, io penso che è più facile preparare una partita dopo una sconfitta che dopo una vittoria, questo mi è stato sempre detto. Il risultato del 4-0 non importa perché perde secondo me una 0-4-0 e sembra una sconfitta. Si riparte dai punti in cui abbiamo lavorato, una squadra che secondo me sta facendo un cammino importante. Non ci dimentichiamo che la classifica è quella che è, siamo in zona play-off, siamo lontani dai play-out di 7 punti. Quindi secondo me la classifica sta facendo un cammino importante con delle difficoltà. Ma sapevamo che il campionato di Serie D è questo, ci sono difficoltà e vanno affondate. Quindi siamo tranquilli. Anche domani sarà importantissimo l'apporto dei tifosi, nonostante l'umore dei tifosi bianco-azzurri sia un po' sotto i tacchi. Ma questo penso che per la piazza di Agrigento avere un pubblico importante fa sempre bene per chi gioca. Quindi noi ci aspettiamo come sempre il massimo supporto dei tifosi e questo qua sicuramente non mancherà. Quindi l'unica cosa che posso dire è di starci vicino come hanno sempre fatto e noi daremo domani il massimo impegno per portare a casa i tre punti.